Sì, l'abbiamo bussato alla volta. Sì, l'abbiamo bussato alla volta. Sì, l'abbiamo bussato alla volta, guarda. Ho visto, ho visto. Mettila a posto, dai. Sceglie, l'abbiamo bussato alla volta. Chi è? Bobo Bernone! Bobo si è accorto che ti sei mangiato tutte le cioccolate! Ti ho portato il carbone! Che ti ha portato? Vieni qua! Che ti ha portato? Chi è? Bobo Natale, chi è? Chi è? Bobo Natale! Che ti ha portato? Il carbone! Bobo Natale! Come facciamo entrare a Bobo Natale? Vieni, Bobo Natale, entra! Entra! Ciao! 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 Tu hai fatto il bravo! Non ci credo! Non è vero! Vieni, Bobo Natale, mettiti vicino un albero, Bobo Natale! Quale è il carbone è aperto? Dai il carbone a Luigi! Guarda, Bobo Natale ha aperto tutte le caselle! Tutte! Tu, è arrivato già Natale! Eh! Sento aprire! No! Questo è mio! Questo è mio! Questo è mio! Tutto è aperto! Bobo Natale, hai visto? No! Hai visto? Vediamo cosa ha portato Bobo Natale! Vai a vedere! Vai a vedere! Dobbiamo aprire ancora quella di oggi! Invece non ci vuole! Vai a vedere! Che hai portato Bobo Natale? Vai a vedere! Vediamo! Vediamo! Questo anche, questo è! Sì sì! Il carbone a te! Sì sì! Il carbone! Questo! Il drone? Il drone? No! Il drone no! Fate il monello! vai a vedere, vai a vedere, vai a vedere il sacco grande di carbone scarta la carta vai, chi aiuta Luigi a scartare la carta? chi aiuta? aiuto, aiuto vediamo, vediamo Luigi piano, piano, senza fare danni, bimbe il trenino non è il trenino, vedi bene, vedi, vedi bene apri, scarta la carta, apri c'è pure questo amore, apriamo che cos'è Luigi, che cos'è? che cos'è? che cos'è? gira, facci vedere, facci vedere aiutalo, aiutalo mettila sul tavolo, gira, gira, gira mettila giù, gira dall'altro lato, se no non si vede wow, la Giulia che guida il tuo papino ma non si può aprire questa ehi, è arrivato nonno Vittorio nonno Vittorio mi sboglio? mi ciro? mi ciro? mi ciro? Max sta arrivando, ha parcheggiato la macchina sta arrivando Massimiliano ma nonno Vittorio ma nonno Vittorio ma nonno Vittorio fate la foto con Babbo Natale che se andate agli altri bimbi e se fate i bravi poi vi porterà gli altri regali a Natale mettetevi vicino a Babbo Natale che vi faccio la foto fermi, aspettate ah, riesco a trovare la fotografica ecco qua guardate a me 3, 2, 1 aspetta metto fin dietro marciamo così se no non si vede l'albero fermi 3, 2, 1 smile beh, ringraziate Babbo Natale grazie grazie Babbo Natale e mo ehi se fate i bravi arriveranno gli altri regali perché Babbo Natale la vostra lettera l'ha ricevuta ma se non fate i bravi non arriverà niente ok salutate Babbo Natale ciao 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 Timber ciao amore ciao ma tu fai il bravo si è mangiato tutte le cioccolate Babbo Natale tutte le ha mangiate tutte dai un bacino ma domani si doveva venire a mangiare si è andato a parcheggiare la macchina viene subito si si eccompaniamo Babbo Natale ciao 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 Babbo Natale ci vediamo presto ciao 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 Guarda quanto è beeeella! Abbiamo un problema! Luigi! Dove vai? Cosa decisi se capi più male? Cosa decisi? Dove vai? Come la macchinina? C'è una mutina! Vai nel soggiorno! Vai nel soggiorno che c'è più spazio! Vai! Incidente 8.24 Sai se è vero? Scrivi tu con la relazione? Lei è tancata! Alle 8.24 di sera! Ripaltamento! Luigi! Senti qua! Sì! Sì! Guarda Max! Guarda Max! Guarda come faccio il frontale! Vai Luigi! Vai! 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 Ma non mi devi guidare! Ora devi fare il frontale della storia! Metti vicino all'albero che ti faccio la foto! Vai! Metti vicino all'albero che ti faccio la foto! Ehi! Metti vicino all'albero di Natale che ti faccio la foto! E' comico eh! E' comico eh! E' comico eh! E' uno specchio! E' uno specchio! Un petite delicato papà! E' acceso! E' peace! E' a faccio la teens new! E' heat! E' open! E' open! E' open! E' open! Ok! Gira la place! Gira al contrario la macchina Verso di me Luigi non fallo a tenda dal presepe Che San Giuseppe ti dà col bastone Dai Vieni qua, fermo Guarda a me Ehi, ehi, ehi Come dici papà? Tu Sì, ho fatto due così Fermo È bello, è bellissima Fermo È bellissimo Ah Luigi Luigi Aia Luigi Fermo